Allora, questa presentazione specifico non è il parto della fantasia di Paolo Barnard, è il parto di un'economia che ha cento anni di storia e che ha questi padri che elenco molto rapidamente. Questo signore, un tedesco, Georg Friedrich Knapp, è stato un grandissimo economista, è importante perché è il padre di questa teoria che si chiama il cartalismo, non è difficile, ve lo spiego in tre secondi, è la cosa che sta poi alla base di tutto quello che vi ho appena detto. Vi ho appena detto, voi potreste avere dieci volte di più di quello che in realtà vi dicono che non potete avere, adesso ci sono i tagli, bisogna risparmiare, anzi bisogna stringere la cinghia. Semplicemente perché chi comprende, come fece per primo nella storia Friedrich Knapp, il valore del cartalismo, cioè che la moneta, allora era la carta, oggi è moneta elettronica per la maggior parte, che la carta moneta non ha nessun valore per lo Stato che la emette, ha e acquisisce un valore solamente per chi non può emetterla e deve lavorare per averla, ma per lo Stato che emette la moneta la carta è carta, è una unità di conto senza valore intrinseco si dice in economia, un'unità di conto che lo Stato produce dal nulla, non è un peso per lo Stato, non è un indebitamento per lo Stato, lo Stato ne può fare un uso illimitato. All'interno di alcuni parametri di sicurezza, ma sono pochi e anche abbastanza semplici da comprendere, questa carta non ha valore per lo Stato, vuol dire che lo Stato la può creare e darla a voi. Dopo lo vediamo, più nello specifico. Un altro padre di questa economia è John Maynard Keynes, che ha fatto uno dei maggiori economisti della storia dell'umanità, Mitchell Innes è un altro, Abel Erner è un nome importante perché è un uomo che viene dal retroterra nostro, non è un accademico, lui iniziò come piccolo imprenditore in America e aveva un magazzino di qualcosa, che fallì miseramente nella crisi del 29 e dovete capire come si sentì lui, si sentì esattamente come si sta sentendo questa mia amica che ha investito tutto quello che ha in un negozio nella provincia di Bologna ed è lì che è impiccata tutti i giorni perché con la crisi la gente non viene a comprare. Lui fece una fine ancora peggiore perché fu travolto dalla crisi del 29 e solo che si incapponì e disse ma io devo capire perché l'economia mi ha sottratto i miei clienti, non mi arrendo a dire c'è la crisi economica, voglio capire. È diventato un economista, un grandissimo economista accademico, insegnava come vedete all'università di Cambridge e la cosa importante è la finanza funzionale perché lui ha scritto sulla differenza fra la finanza ortodossa, quella classica, quella che leggete sul Carlino, sulla Repubblica e nei telegiornali e la cosiddetta finanza funzionale che si rifà sempre al principio del cartelismo, cioè esiste un modo per lo Stato di gestire la moneta che è funzionale a che cosa? Alla piena occupazione, ai pieni servizi sociali, alle piene infrastrutture, alla piena produzione delle aziende, al rilancio produttivo del paese, eccetera. Lui disse, noi andiamo avanti per schemini e dogmi che ci vengono insegnati nell'università dai grandi tromboni dell'economia e questa è la finanza ortodossa. Poi c'è la finanza vera, quella che veramente serve alla gente, la finanza funzionale di Abel Erner. Wynne Godley, altro economista importantissimo, vi farò vedere dopo che cosa sono i suoi bilanci settoriali per capire esattamente come è possibile, com'è veramente possibile che uno Stato che ha una moneta in mano possa fare quello che ho appena detto, che sembra incredibile. Hyman Minsky ci ha parlato della instabilità finanziaria, cioè del processo, esattamente del processo che ha portato alla grande crisi finanziaria del 2007 e moriva nel 1996, per cui ce l'aveva preso. Charles Goodhart, della Banca d'Inghilterra, è l'economista oggi vivente, più autorevole, che sostiene esattamente quello che io vi sto dicendo e vi spiegherò anche più avanti. Cioè che questa emissione della carta, della moneta da parte dello Stato, che crea un debito che è del tutto fittizio, il famoso debito pubblico, non è un peso né per lo Stato né tantomeno per i cittadini. E qui ribaltiamo completamente la prima grande retorica, che è quella del debito pubblico, è il nostro debito, è il debito dei nostri nipoti. Questi sono gli economisti che porto in giro per l'Italia. No, non funziona. Vabbè, porto in giro per l'Italia, sono economisti di altissimo livello, sono quelli che verranno a Rimini e a Cagliari per il 21 ottobre e il 27-28 ottobre, sempre che si fa.